Siamo a Roma per un incontro con la stampa medica durante il quale è stata annunciata una novità importante per i pazienti con leucemia linfatica cronica, ovvero la rimborsabilità della prima terapia tuttorale a durata fissa, ovvero che viene fatta per un periodo di tempo predeterminato dopodiché si può sospendere. Uno dei due farmaci si chiama Ibrutinib, è stato sviluppato dalla Johnson & Johnson e noi parliamo con Alessandra Baltini, direttore medico di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia. Dottoressa Baldini, innanzitutto vorrei che ci aiutasse a capire meglio la notizia di oggi, quindi innanzitutto quali sono i due farmaci che possono essere associati, per quanto tempo vanno presi insieme, qual è il loro effetto? Da oggi abbiamo una bellissima notizia per i pazienti che sono affetti da leucemia linfocetica cronica perché avranno l'opportunità di utilizzare due farmaci antitumorali per via orale, l'elibrutinib che è un inibitore della tirosina chinasi di Bruton e il venetoclast che inibisce la proteina BCL2. Combinati hanno un'azione sinergica, potranno quindi essere utilizzati per una durata fissa di circa 15 mesi. Dottoressa Baldini, come si somministrano questi due farmaci? Allora, entrambi sono somministrate per via orale, quindi sono degli antitumorali, però sono delle piccole molecole che quindi possono essere somministrate oralmente, una volta al giorno. Senta, cosa succede dopo i 15 mesi appunto di terapia con i due farmaci abbinati? Il paziente continuerà ad essere monitorato dal proprio medico ma non dovrà più fare terapia e appunto i risultati dello studio di fase 3, il GROW, ha diciamo sottolineato che al 57esimo mese c'è un overall survival di 84,5% dei pazienti. Quindi questi pazienti dopo 5 anni rimangono liberi da trattamento e liberi da terapia. Come se fossero guariti, si può dire così oppure prematuro? Prematuro, è prematuro, però sicuramente avranno l'opportunità di trascorrere un lungo periodo dimenticandosi non solo della terapia ma anche della malattia. Senta, in quella piccola percentuale di pazienti meno fortunati in cui la malattia ritorna, cosa succede, cosa si può fare? Allora abbiamo dei dati che arrivano dallo studio di fase 2, lo studio Cattivate, che ha un follow up fino a 57 mesi. Ci sono stati pochissimi pazienti che hanno recidivato e sono stati ritrattati o con ibrutinib diciamo immunoterapia o con la stessa combinazione di ibrutinib con venetoclax. E questo perché? Perché questo tipo di trattamento, di combinazione non genera resistenze. È stato dimostrato appunto sempre nei studi clinici che non ci sono resistenze, tale per cui sono diciamo candidabili a successivi trattamenti. Quindi si interrompe ma poi se proprio ce ne fosse bisogno si può riprendere. E il beneficio per i pazienti in termini di qualità di vita è stato misurato? È stato misurato ed è risultato essere estremamente buono e comparabile anche agli studi in immunoterapia con ibrutinib. Quindi l'associazione per come è stata strutturata, quindi con un ciclo di induzione, con una titolazione di venetoclax, porta a un buon profilo di sicurezza e tollerabilità. Senti abbiamo penso chiarito molto bene la notizia di oggi, allarghiamo un po' il discorso. Il vostro impegno è in ematologia, avete tanti farmaci, riesci a farci un po' una sintesi anche di quello che fate un po' in Italia a livello di studi clinici. Allora siamo presenti nell'ematologia da più di 35 anni, quindi abbiamo uno storico molto importante. Attualmente ci concentriamo di patologie come il mieloma multipolo, le leucemie linfatica cronica, il lipooma mantellare, la macrogrubulinemia di Waldestrom e la leucemia meloide acuta. Per quanto riguarda i tumori solidi stiamo lavorando sul tumore della prostata, del polmone e della vescica, ma molti altri arriveranno con recenti acquisizioni di piattaforme come appunto la recente AMBREX che è focalizzata su questa piattaforma anticorpo farmaco coniugati. Farmaco anticorpo coniugati. Senta l'Italia conta nella vostra ricerca? Ce lo auguriamo, per noi è un impegno, una responsabilità. Abbiamo 133 studi clinici che stanno aumentando, abbiamo coinvolto più di 1100 siti di sperimentazione e attualmente negli studi di fase 2 e 3 più di 6.000 pazienti. Adesso ho capito bene, 1100 siti in Italia? Sì, sono 1100 ospedali, sia quelli principali, più grandi, che anche ospedali secondari o di provincia, quindi cerchiamo di fare studi anche in ospedali, diciamo, di territorio, ecco, un pochino più, meno centrale. Per dare a tutti quindi la possibilità di studiare i farmaci e di darli immediatamente ai pazienti? E per dare accesso ai pazienti, all'innovazione, anche se non abitano a Milano, Roma o vicino a un grande centro di sperimentazione.